Milioni di persone sono in fuga dai loro luoghi di origine. Incombono una criminalità e i più proventi superano il PIL di molti Stati. È una minaccia terroristica che dilaga a fulminia a partire dal web, indipendentemente da qualsiasi frontiera. Di fronte a tutto questo, pensare di farcela da soli è pure illusione, o peggio, inganno consapevole delle pubbliche opinioni. L'irrilevanza delle politiche di ciascun singolo Paese europeo, fuori dal quadro di riferimento continentale, emergerebbe immediatamente.